In questa video-lezione noi parleremo del pantheon degli Egizi e del loro culto dei morti. Cominciamo con un'affermazione di Erodoto. Erodoto, parlando degli Egizi, diceva che essi erano il popolo più religioso tra tutti quanti quelli da lui conosciuto. La religione egiziana attraversa diverse fasi. La prima è una fase che viene definita zoomorfa, cioè le divinità hanno una forma completamente animale. Il toro rimanda al dio Api, lo sciacallo ad Anubi, il gatto a Bastet, la dea Bastet, il falco a Horus, la riete a Knun. Di fatto quindi si tratta di divinità totalmente e completamente zoomorfiche. In una seconda fase le divinità, pur rimanendo fondamentalmente zoomorfe, però cominciano a acquisire dei tratti umani. Questa è una caratteristica particolarmente interessante, che però non dura per tutto il periodo egiziano. O meglio, a questa religione zoomorfa, o in gran parte zoomorfa, si aggiungono anche altri tipi di culti. Si sovrappongono cioè dei culti naturali, si cominciano a venerare per esempio il fiume e anche altri elementi naturali, come può essere il sole, identificato con il dio Ra. Quando poi viene associato, innanzi sostituito Ra con un'altra divinità, Amon, da parte di appunto una dinastia, di fatto per un certo periodo sono copresenti queste due grandi divinità, divinità appunto Ra era il dio più importante, perché quello che rappresentava il sole, Amon però rappresentava la dinastia dei faraoni, quindi inevitabilmente trattava di due divinità particolarmente importanti, tanto che a un certo punto gli egiziani hanno deciso di unire queste due divinità e quindi di identificare Amon con Ra, quindi il dio della dinastia dei faraoni, quindi il dio dei faraoni con il sole. E così abbiamo avuto il culto di Amon Ra. Poi a questi culti se ne sono aggiunti molti molti altri per un pantheon che è estremamente vario e variegato, Una storia particolarmente interessante e dalle conseguenze anche politiche particolarmente importanti è la storia, il mito in qualche modo legato a Iside, Osiride e Horus, questa triade, questa famiglia di divinità. Proviamo a raccontare questo mito straordinario. Osiride viene ucciso da Seth, che è una divinità malvagia, per gelosia. Seth decide di nascondere il corpo di Osiride, ma la sorella, nonché moglie di Osiride, cioè Iside, parte alla scoperta di questo corpo, cioè lo vuole rintracciare, quindi si trasforma in falco e dall'alto, grazie alla sua vista prodigiosa, riesce a scoprire, a trovare appunto il corpo di Osiride. Che cosa fa di questo corpo? Attenzione che qui cominciamo a ritrovare degli elementi particolarmente importanti, poi per un discorso che andremo a fare tra breve. Il corpo di Osiride viene imbalsamato e seppellito da Iside, quindi appunto il processo molto utilizzato, spesso utilizzato dagli egiziani per appunto imbalsamare almeno i faraoni prima, ma anche su questo torneremo quanto prima, troverebbe una ragione divina. In questa procedura appunto Iside che decide di imbalsamare e poi successivamente seppellire Osiride. Ma non contenta di questo, Iside che si era ritrasformata in falco, decide di far risuscitare lo stesso Osiride attraverso il battito delle sue ali, quindi delle sue ali da falco. L'operazione riesce, i due riescono a riunirsi e da quest'unione nasce Horus. Praticamente Horus, figlio appunto di Osiride, vendicherà il padre uccidendo Seth e Osiride così diventa il re del regno dei morti. Ci sono quindi, soprattutto in questa seconda parte della storia, una serie di riflessioni che faremo appunto nelle slide successive. Cerchiamo appunto di chiederci che significato può avere questo mito di morte e di ricorrezione. Probabilmente legato almeno all'origine, al ciclo del sole, quindi il sole e la notte, quindi il sole e il buio, il giorno e la notte. E quindi legando naturalmente Osiride al momento in cui è in vita, il momento che passa morto e seppellito. Secondo altri, questo mito sta a indicare il ciclo delle stagioni, in particolare le piene del Nilo, così importanti e fondamentali per l'Egitto. Secondo altri invece, Horus rappresenta il faraone vivo, quindi il figlio di Osiride rappresenterebbe il faraone in vita, mentre Osiride rappresenterebbe il faraone morto. Concentriamoci su questo aspetto particolarmente interessante, perché di fatto questa possibile interpretazione ci rimanda alla legittimazione della successione. Cioè Osiride, morto e poi resuscitato, di fatto mette al mondo Horus, quindi il faraone vivo non è altro che il figlio del faraone morto, Osiride. E quindi con questo mito si va, o si andrebbe, secondo appunto chi accetta questa interpretazione, a legittimare la successione di padre in figlio, che era una prerogativa, abbiamo visto anche in un altro video, una prerogativa delle dinastie dei faraoni. Questa riflessione abbiamo fatto sul mito di Iside, Osiride e Horus, ci porta al processo della mummificazione, perché si parla appunto del corpo di Osiride, a un certo punto viene imbalsamato da Iside. Vediamo prima che cosa intendiamo con mummificazione, e chi poteva ovviamente permettersela. Allora innanzitutto poteva permettersi il faraone, ma in un secondo momento anche funzionari benestanti e commercianti molto facoltosi hanno chiesto di poter accedere a questo processo di mummificazione. E questo processo serviva per che cosa? Qual era lo scopo? Il processo aveva uno scopo particolarmente interessante, perché lo scopo era quello di imbalsamare appunto il corpo e l'anima, quindi proteggere, vedremo poi in che modo, imbalsamare, proteggere il corpo e l'anima così importante, vedremo anche dopo il perché, da quelle che possono essere naturalmente le intemperie, per consegnare questo corpo e quest'anima all'immortalità. Quindi la mummificazione ha questo significato particolarmente importante. E allora come avveniva questo processo di mummificazione? Allora innanzitutto si comincia con la lavatura del corpo, del cadavere appunto, diciamo del faraone o di chi si sottoponeva a questo processo. Poi si estraeva il cervello attraverso le narici con appunto uno speciale uncino e poi con un taglio sul fianco sinistro venivano estratti tutti gli altri organi tranne il cuore, che invece sarebbe rimasto sempre nel corpo. A questo punto il corpo della persona che doveva essere mummificata subiva una seconda lavatura e subiva un processo di dissecamento con l'immersione del corpo in una vasca con sale di sodio. Questo processo durava una quarantina di giorni e permetteva appunto al corpo di privarsi di tutto quello che poteva andare in decomposizione naturalmente. Quindi il sale di sodio aveva questa funzione disidratante. Finito questo periodo di una quarantina di giorni il corpo viene estratto da questa vasca e riempito con paglia, stoffe per ridare al corpo una forma più consona quindi più vicina a quella umana di un uomo in qualche modo vivo. Il corpo veniva a questo punto cosparso di oli e profumi e riceveva appunto la cosiddetta mummificazione cioè la bendatura che nei casi migliori avveniva attraverso delle bende di lino ma sappiamo che in altre circostanze furono usati anche tanti altri materiali meno ovviamente delicati del lino stesso. Durante questa operazione di bendatura i sacerdoti inserivano nelle bende, in queste fasciature anche dei gioielli e degli amuleti per appunto preservare questa persona nel suo viaggio verso l'immortalità di solito sulla faccia si apponeva una maschera funeraria poi successivamente si assisteva al rito dell'apertura della bocca un rito religioso particolarmente importante nel quale i sacerdoti di fatto simbolicamente riattivavano le funzioni vitali del defunto fatta questa ultima operazione la mummia quindi questo corpo ricoperto di bene veniva inserito nel sarcofago e poteva cominciare il suo viaggio verso il mondo dei beati il suo viaggio verso l'occidente era caratterizzato da una serie di tappe la più importante era la famosa pesatura dell'anima l'anima appunto veniva posta su una bilancia e questa anima doveva superare questo momento particolarmente dedicato perché era la condizione essenziale questa della pesatura dell'anima per essere ammessi nel mondo dei beati e quindi l'anima doveva non essere assolutamente pesante ma leggera come una piuma perché non doveva portare con sé ovviamente il marciume i peccati possiamo dire in termini cristiani che erano stati commessi dalla persona a questo punto riceveva il giudizio di Osiride e poteva finalmente entrare nel mondo dei beati grazie grazie